Lorenzo sei ritornato in campo questa settimana a allenarti con i tuoi compagni è avuto comunque un inizio di stagione che è iniziato magari un attimo dopo se è arrivato ricordiamo dopo l'annata con la Carrarese un'annata sicuramente positiva, un infortunio muscolare che ci sta in fase di preparazione e adesso la possibilità di entrare in una squadra che ha vinto la sua prima partita quindi sicuramente c'è anche un tasso di entusiasmo non indifferente Sì ho ritardato un pelo arrivare a Lecco, era già molto tempo che io chiedevo al mio procuratore di venire a Lecco sono stati ritardi per motivi un po' col rinnovo col Torino, vari motivi finalmente ero arrivato alla prima partita e poi mi sono fatto male sono dovuto stare fuori un mesetto e ora non vedo l'ora di poter entrare a dare una mano alla squadra che ho visto anche già con la partita con la Provercelli ha fatto una gran partita e quindi ha dimostrato quello che io ho sempre sostenuto cioè che è un gran gruppo Lecco tra l'altro è una piazza che conosci, ci hai debuttato da giovane a che punto è arrivata la tua carriera per l'appunto dopo un'annata in cui sei arrivato anche avanti nella fase playoff? Lecco sì, è stata forse la mia prima partita in uno stadio abbastanza complicato perché si sale con uno stadio abbastanza caldo e dopodiché sono cresciuto pian piano girando un po' di stadi a Carrara l'anno scorso è stata una bellissima esperienza in cui siamo andati a giocare anche a Pisa al playoff, comunque è stato un bel percorso che spero di ripercorrere quest'anno con Lecco Il reparto in cui ti innesti, ovvero ricordiamo terzino di fascia destra è comunque ben composto sia da over che da under i ragazzi si sono fatti valere a Novara qualche trucchetto del mestiere in più potrebbe anche venire utile Sì, dicevo prima che Magonara sta in questo momento sfruttando l'occasione del mio infortunio e la sta sfruttando al meglio secondo me perché sta facendo davvero buone prestazioni e ora non so dire se a Novara sarò già disponibile per il fatto che comunque sto recuperando pian piano, spero che la settimana proceda nel miglior modo possibile e spero a Novara di poter entrare a dare il mio contributo alla squadra Di quel puntisola hai ritrovato Giordan Pedrocchi l'hai ritrovato dopo una promozione come l'hai ritrovato per quello che l'avevamo visto nell'avversario è sicuramente molto migliorato Pedro è un ragazzo che già conoscevo e che tra l'altro mi ha fatto fare il mio primo gol nei campionati più grandi è un ragazzo che qualitativamente non si può neanche discutere perché ha forse categorie superiori e l'ho trovato sicuramente migliorato sono felice per lui che è riuscito a vincere il campionato l'anno scorso perché se lo merita glielo ho sempre detto che la Serie D gli stava stretta e ora spero si possa ritagliare uno spazio ben più grande anche tra i professionisti grazie Lorenzo, buon lavoro grazie a te tanto